Io mi auguro di essere io il candidato del centrodestra, le dico chiaramente, mi auguro di essere io questa figura. Invece non c'è stata nessuna convergenza, o meglio c'è stata, ma su Gino Perrone è finita così la triste vicenda elettorale di Angela Quinto. Si era candidata a sorpresa a gennaio, sostenuta dalla civica La Città in Fiore. Disse all'epoca che si attendeva la convergenza di altre liste, ma che sarebbe andata comunque in fondo anche da sola. La pancia della politica coratina faceva trapelare l'ipotesi che fosse stata mandata in avanscoperta, in attesa dell'evoluzione in corso, soprattutto nel centrodestra, con l'intenzione di sostenerla o mollarla in funzione dell'opportunità migliore. Alla luce di quanto accaduto, sembra che tale ipotesi fosse più che fondata, quando qualche settimana fa, improvvisamente, l'Udc e altre quattro liste centriste decisero di convergere sulla Quinto, sempre la pancia della politica coratina, disse che si trattava di un blef. Non si sbagliava neanche questa volta, almeno così dicono i fatti e quanto accaduto negli ultimi giorni. Dopo aver partecipato nei mesi scorsi a tavoli che andavano in direzione totalmente opposta al centrodestra, senza cavarle nulla, con molta disinvoltura, la Quinto, martedì, si è presentata al tavolo politico tra le sue liste e quelle del centrodestra, convinta di ricevere l'investitura a sindaco di tutti. Ma come si sa, chi nel conclave entra Papa esce cardinale, nel caso della Quinto non è uscita neanche prete. Le cose sono infatti andate ben diversamente a scendere dal suo carretto. Per salire sul ben più attrezzato carro di Gino Perrone, sono state proprio l'Udc e le altre liste centriste. La Quinto ha giocato un'ultima carta, offrendo il suo ritiro in cambio della garanzia di essere, in caso di vittoria di Perrone, il suo vice sindaco, ma anche questa richiesta è stata respinta con perdite. Si è giunti quindi, parafrasando il romanzo di Osvaldo Soriano, al triste e solitario i final di giovedì sera, quando la Quinto ha ufficializzato il suo ritiro e la non partecipazione della sua lista alla città in fiore alla competizione. Lecito chiedersi a questo punto qual è stato il reale percorso della dottoressa Quinto, se la sua è stata a gennaio una candidatura veramente decisa e spontanea, che sarebbe andata avanti in ogni caso, non si capisce perché si è ritirata. Se invece gli erano state date garanzie di ulteriori sostegni, si è fatta ingannare per bene. Ci spiace per lei, se ci ha creduto. Ci spiace per chi aveva lealmente sposato il suo progetto e ci aveva messo tempo ed entusiasmo, ma alla fine la candidatura della Quinto rischia di essere stata solo uno scherzone fuori tempo.